Negli studi di TV City, Maria Orlando, presidente dell'associazione Lali Bellula, c'è caos al Bottazzi per questa problematica relativa alla fornitura di ausili, presidi sanitari per le mamme. Che cosa sta succedendo e al momento qual è la situazione? La situazione è già abbastanza nota perché ho notato che è stata segnalata più volte e denunciata anche tramite i mezzi di stampa. Purtroppo c'è un'erogazione dei presidi sanitari alquanto disastrosa per quanto concerne il servizio offerto dalla nostra ASL di appartenenza. Molte mamme mi hanno segnalato delle problematiche abbastanza importanti. Le stesse mamme hanno verbalizzato formalmente agli uffici preposti, le loro ovviamente lamentele. Parliamo di prodotti erogati che ovviamente sono di una qualità abbastanza scarsa, tanto da trasmettere allergie vere e proprie. Ma il problema sostanziale è legato anche ai ritardi nell'erogazione? Principalmente sono anche quelli, dei ritardi che in effetti non rispettano le tempistiche che vengono indicate nella certificazione rilasciata singolarmente ad ogni utente. Infatti molte mamme, molti familiari di diversamenti abili si ritrovano con una data ben precisa per quanto concerne l'erogazione del prodotto, dei pannoloni e invece quella data non viene rispettata. Lei per affrontare questa problematica ha chiesto un incontro? Io proprio ieri pomeriggio ho inviato una PEC al responsabile, al dirigente per quanto concerne l'acquisizione di beni e servizi, il dottor Tom. Leggendo sul sito attualmente c'è soltanto una lettera dove il dottor Tom comunica che a breve ci sarà un cambio di azienda erogatrice. Non ha comunicato ovviamente quale sarà la nuova azienda e soprattutto ha denotato anche uno scarso controllo su quello che è la qualità del prodotto erogato. Altrimenti, dinnanzi a tutte queste segnalazioni, si sarebbe potuto intervenire prima. Dunque cattiva qualità, ritardi e anche scarsa comunicazione. Sì, sì, purtroppo sì. Un problema che a quanto pare non trova soluzione. Mi auguro che questo incontro mi verrà concesso e mi auguro di poter avere le risposte giuste e soprattutto di risanare questo servizio che a mio avviso è uno dei diritti che andrebbe tutelato per queste persone. Che molto spesso ci ritroviamo con persone che non sono nemmeno in grado di acquistare i presidi sanitari per i propri familiari. Chi deve controllare non lo fa. Insomma c'è la massima strafottenza. Sì, una massima strafottenza che ovviamente cerchiamo noi che offriamo volontariato sul territorio, cerchiamo di stare dietro queste famiglie per non farle ovviamente avvertire un disagio ancora maggiore. Però è giusto anche che chi ha il potere di fare che faccia. Numerose sono state le segnalazioni delle mamme. Che cosa vi hanno risposto? A me personalmente hanno risposto di fare questa dichiarazione scritta che è stata fatta. Per dire cosa? Per dire che i pannolini della scarsa qualità dei pannolini è perché non arrivavano questi pannolini. Che cosa lei ha riscontrato questa scarsa qualità dei pannolini? I bambini hanno avuto delle problematiche? Sì, mio figlio ha avuto delle allergie che stiamo curando con delle creme. Quindi è assurda questa situazione? Cioè è assurdo che vengano forniti dei presidi sanitari a bambini, anziani, disabili che non vengano controllati? Purtroppo sì. Noi chiediamo di essere aiutate perché i nostri figli non possono essere sempre messi all'angolo per tante problematiche e questa è una grave dei pannolini e speriamo di trovare una soluzione, di avere aiuto.